Oggi qui presentiamo tutte le iniziative del novantesimo, che in realtà sono già iniziate alla fine del mese scorso, con alcune iniziative che però sono rimaste fuori da quello che era il calendario vero e proprio, in relazione ai tempi tecnici di stampa di tipografia per i vari appuntamenti che sono stati confermati successivamente. L'evento clou accadrà il giorno 21 ottobre, proprio il giorno del compleanno della città, giornata durante la quale al mattino ci sarà una Santa Messa ufficiata dal Vescovo, al pomeriggio ci sarà il Consiglio Comunale Straordinario, in seduta plenaria all'interno della Sala Consigliare, con un intermezzo musicale della Camerata Ligure e di Ose Scanu alla chitarra di Mazzini, ed è un aspetto significativo da far notare. Lo stesso gruppo musicale suonerà anche la sera un concerto alla città, al Cavour. Prima del 21 ottobre ci saranno tutta una serie di iniziative, mi piace ricordare quelle di questa settimana che sono le prime, tra cui la presentazione di un volume a cura di Sonia Maffei, iconologia di Cesare Ripa, presso la Biblioteca Civica, questo giovedì alle ore 17. Un appuntamento interessante, divertente, organizzato dal Circolo Parasio, sabato 12. arriverà un treno con locomotiva a vapore dalla Spezia e si fermerà alla stazione di Oneglia alle 9 e mezza e alla stazione di Porto Maurizio alle 10 e mezza. Sarà possibile quindi fare la tratta Oneglia-Porto Maurizio su questo treno storico. E alla sera di sabato, ricordiamoci, siamo ancora in corso, è ancora in corso il Festival GROC, c'è l'appuntamento al Teatro Cavour con il gruppo Occhi Doc e lo spettacolo Sleep Inside. Il calendario prevede praticamente tutti i appuntamenti ingresso gratuito, tranne l'ultimo che è l'opera lirica che avverrà a novembre in occasione dei festeggiamenti di San Leonardo.